Da bambini i robot sono uno dei giochi preferiti, da grandi invece stanno diventando componente importante se non fondamentale per il lavoro nell'ambito dell'innovazione. Così ecco che all'ITT Ferraris San Giovanni in questo periodo si sta trasformando gli studenti della robotica in tutor che insegnano le prime basi di questa disciplina ai ragazzi delle scuole primarie di Castelfranco Pian di Scò, che a loro volta imparano e giocano allo stesso momento. Si tratta di un gioco tremendamente serio perché c'è la continuità, c'è lo sviluppo di competenze matematiche e c'è anche intercettare quelli che sono i bisogni dei nostri ragazzi fin dai primi anni della scuola primaria. Chiaramente motivo d'orgoglio per l'ISIS Valdarno e l'indirizzo informatica avere i nostri ragazzi che si trasformano in tutor e in insegnanti verso i loro colleghi più piccoli. Questo per noi è un passo molto importante e la collaborazione fra bambini delle elementari e ragazzi delle medie dentro il nostro istituto c'è già stata con programmi di continuità e ora c'è questo passo importante anche di collaborazione con la scuola superiore che ci dà sicuramente una marcia in più, delle competenze ancora più sicure nel guidare i bimbi su questo percorso veramente innovativo. Ecco il tutto visto dal lato degli insegnanti sia per l'ITT che per le primarie. Ha permesso ai miei alunni di crescere insegnando ai bambini più piccoli e sperimentando che effettivamente la robotica è un settore della didattica molto efficace per apprendere la logica dell'informatica perché questi sono ragazzi informatici e che apprendono naturalmente insieme a questi bambini le tecniche nuove e innovative. Noi abbiamo appunto ipotizzato e poi appunto messo in atto questo progetto proprio per avvicinare i ragazzi a un primo approccio al coding praticamente secondo quello anche che ci viene detto dal nostro piano nazionale scuola digitale quindi con la nuova legge della buona scuola. E quindi abbiamo colto questa occasione e anzi ringraziamo sicuramente l'Isis Valdarno che ci ha accolti veramente dei bambini, si sono divertiti, sono entusiasti in una maniera veramente eccezionale. Grazie.